Elvezio Rosati e Gabriele Silvestini sono due degli interpreti di un film, S-Fashion, che è di prossima uscita, in particolare a Colonnella, il prossimo 23 marzo. Tocca un po' con mano questa pellicola, la crisi che sta attraversando tra le altre aree, La Val Vibrata. Sì, in effetti è un film di prossima uscita che nasce da un'attenta analisi, da un'attenta osservazione della situazione economica di alcune imprese del nostro territorio, con un particolare però riferimento all'industria tessile, all'industria della moda. In effetti il film è la storia di Evelyn, una imprenditrice, una giovane donna imprenditrice di terza generazione, che eredita questa azienda di moda, con un brand veramente formidabile, dal nonno. Però si trova a vivere adesso una condizione veramente difficile e di crisi. È un tema sicuramente molto attuale, ricorrente, non nuovo, però Mauro Gioncapece, con la cosceneggiatura anche di Corinna Coroneo, hanno cercato di, come dire, valutare soprattutto l'aspetto intimo, interiore del personaggio di Evelyn. Proprio perché questa donna ha cercato da sempre di gestire la sua azienda come una vera famiglia, come quindi un insieme di, diciamo, di affetti, di condizioni esistenziali singole. Purtroppo all'improvviso, in questa fase, negli ultimi anni, si trova a vivere questa crisi, però si trasforma in una crisi anche personale, di rapporti sociali e quindi anche in una crisi esistenziale. Il tema proprio, vero e proprio del film, sarebbe anche da guardarlo sotto il punto di vista artistico, delle immagini, dei colori, suoni e di come è stato girato. Perché c'è da ricordarsi che un film non è solo rappresentazione di una storia, bensì e soprattutto come viene rappresentata una storia e il modo, cioè il modo artistico di rappresentarla. Soprattutto, insomma, è spettacolo. Quindi, anche se è un dramma, è comunque spettacolo. E questo è quello che conta. Perché deve comunque far rimanere qualcosa quando si esce fuori dalla sala del cinema. Quindi, anche se è un dramma.